ebbene signori e signori buonasera e ben ritrovati sempre qui sul canale di pg sports e i vostri compagni noise al mio fianco come sempre un boy non è l'ecca non è pg nation eo masters ma sono gli amazon university e sports c'era un bel po di roma è un bel periodo bello bello ciccioso già non perdere un pochino il conto è se non altro ma non abbiamo moltissimo altro da fare non possiamo uscire di casa possiamo soltanto recuperare i nostri videogiochi vecchi e uscire da qua e noi vi aiuteremo uscire un po d'acqua così come anche queste squadre vi aiuteranno a uscire un po d'acqua perché la prima partita è stata abbastanza per l'appunto fuori di cabeza per dire un termine proprio tecnico l'ho sentito da un grande esperto ed è stato un primo game dove chiaramente i polibus hanno dato una dimostrazione di forza abbastanza chiara e concisa qui chiaramente è un torneo dove la discrepanza proprio di abilità tra i giocatori può farsi sentire più da un lato più dall'altro e in questo primo game sembra che il lato sia stato abbastanza chiaro per quanto è sempre una best of three è sempre una serie prolungata dal meglio delle tre quindi serve un'altra vittoria da parte di polibus per confermare la loro ha il loro avanzamento la fase successiva c'è sempre la possibilità di un miracoloso a questo punto capovolgimento anche se non è raro non è raro sì però non è impossibile che in competitivo vediamo partite dove game 1 è uno stampo assurdo e poi invece la competitività un po si riaccende e la parità anche abilità tra le squadre viene un pochino ristabilita quindi una prima partita che sicuramente ha una forte stampo sull'inizio della serie però sono curioso di vedere il seguito sì anche perché abbiamo detto è una best of three quindi per quanto riguarda i colossus esports c'è ancora possibilità di ribaltare il risultato come il miglior 10 della storia possono tranquillamente portarsi l'uno uno poi optare per quel 21 vincente non sarà semplice perché è tutto stesso dall'altra parte abbiamo un team che si è approcciato a questa draft in maniera anche piuttosto variegata con anche un picco come jinx che tra l'altro tanto quanto jin è un pochino sul chi va là nel meta attuale con questo zed che tra l'altro contro un veigar il cui controllo doveva essere sicuramente un pochino più facilitato nel tenerlo a bada sono poi esplosi da quella primo sangue di mordekaiser su clad da lì in poi tutto caos e devastazione e questo permette ai polibas di avanzare su un solido possibile 2 a 0 sì sicuramente una partita precedente avevamo un pochino detto no magari cosa volevamo vedere da queste da queste squadre dove giaceva un po il nostro fuori io chiaramente ho manifestato un pochino un po la volontà di vedere qualcosa da un pic che non vediamo solitamente che era jinx però mi è morto un po in la x è caduta la è caduta la linea si è tagliato per il microfono e degli svantaggi dello smart working però chiaramente il mio il mio favore andava il team dei polibas voglio chiarificare questa cosa ma detto questo per i polibas potrebbero anche tranquillamente cercare di intavolare bisognerà anche vedere un po la fase di ban in questa seconda fase di selezioni dei campioni perché anche quello potrebbe giocare magari a favore del colo di colossus o addirittura di polibas ma per come hanno giocato i polibas non mi sembra che quelli fossero i pic per eccezione lasciati un po andare per quanto abbiano giocati bene non mi sembrano quei pic che dici lo prendo perché sono sicuro di vincere la corsia e di poter snowballare con il team è stato proprio un lento di venire con dei trade iniziali soprattutto in corso centrale ma così come anche in corso superiore che poi sono esplose a un certo punto anche un po magari per sicuramente vantaggio di qualche oggettino in più questo anche molta bravura proprio per quanto riguarda sia zed come anche mordekaiser ma lo stesso alla fine la lettura comunque della mappa in corsia inferiore insomma sono state piccole intercettazioni che hanno dato parole favore poi polibas di tranquillamente snobollare perché abbiamo visto mordekaiser 3 contro 1 riuscire non soltanto a prendersi flash di due tre persone ma anche la vita di quel set quindi quando vedi una roba del genere capisci che c'è ben poco da fare sì sicuramente l'adattamento da game 1 game 2 può essere fatto molto più comodamente sui pic che appena visto un po dominare la partita ma un po la reazione istintiva è che picco non pic non è molto lì dove non è molto lì che giace la differenza tra queste due squadre quindi può sicuramente essere un ottimo modo per rompere un pochino lo status quo e cercare di scombinare un pochino le carte in tavola perché se un team ha appena dominato con olaf togliere olaf può essere un buon punto di partenza perché almeno costringi anche lo stesso giocatore a dover cambiare un pochino approccio cambiare un pochino la mentalità no a doversi doversi riadattare un pochino all'improvvisazione del momento ma signori finalmente siamo pronti per inoltrarci quella che è la selezione dei campioni di questo secondo match della best of 3 tra i colossus esports ora passati blueside e i polibus team ora redside e ricordiamo che essendo questa una best of 3 la seconda partita significa match point per una delle squadre infatti polibus sono a un singolo nexus dal confermare questa serie e avanzare quindi alla fase degli ottavi di finale di questo amazon university esports ricordiamo che la posta in palio principalmente è la qualificazione agli universi di esports masters quindi competere con le altre squadre universitarie europee non solo più italiane per il titolo di migliore d'europa si quindi anche una possibilità un'opportunità per potersi mettere alla prova per dei ragazzi che magari non hanno avuto le occasioni o non hanno avuto le possibilità magari anche un promotion tournament di pg esports magari questa è anche la volta buona per trovarsi in un palcoscenico dove si possa anche essere visti da team quali per l'appunto quelli che si possono approcciare un promotion tournament quindi chi lo so mai dire mai saremo a vedere e partono infatti subito un po i primi ban seguendo quello di cui stavamo parlando prima appena visto un olaf e un mordekaiser rubare un po la partita e rimuoverli può essere un buon primo passo però anche abbastanza interessante l'adattamento proprio dei polibus che vanno a bannare loro stessi jinx per anche soltanto impedire che le possa avere il team avversario d'altra parte è uno di quegli ad carry che può essere molto efficace in un ambiente soprattutto dove la comunicazione agli altissimi livelli e è un campione che snobolla molto molto facilmente si sono in realtà campioni come mordekaiser non la stessa arriva ne sono quei campioni che se prendono anche un netto vantaggio è veramente tetti è tedioso tenerli a bada ed è anche molto difficile farlo io dovrò da parte colossus si portano questa volta con un buon ad carry come mi sforzo qualcosa anche di un pochino più aderente al meta stesso attuale in inoltre vogliamo anche notificare che adesso il abbiamo in corsia inferiore quindi abbiamo un giorno di carry diverso rispetto a prima la risposta da parte di polibus è leona quindi su quello si mantengono molto solidi ha fatto un buon lavoro nella partita precedente ottime supreme ottime lame dello zenith i suoi ingressi anche millimetrici in alcune occasioni c'è stata un'alta priorità su quel campione proprio nella partita precedente ancora ripetono e abbiamo un po visto il perché avere un una forte presenza quel buon tank in bot lane aiuta molto una squadra che deve ancora un trovare la giusta via deve ancora capire bene come piantarsi bene con i piedi per terra tristana era un campione che era stato bannato nella partita precedente mentre questa volta lo vediamo esposto e ancora non sappiamo se ci sarà un eventuale flex perché tristana chiaramente nata e cresciuta in corsia inferiore ma l'abbiamo visto espandere un po i suoi orizzonti anche verso la corsia centrale e addirittura superiore in alcune occasioni quindi non mi aspetto nessun flex pazzo folle assurdo ma come al solito trattiamo respiro fino ai 20 secondi dello scadere del tempo per adesso sicuramente da parte dei colossus c'è una volontà di flexare un pochino di più con questo pic variegato di enni potremmo dire di zack la stessa cosa ormai buipo ci ha abituato così tanto al pic di zack che io ormai lo vedo dico va bene normale non mi sorprende più questo zack ed enni è un campione che ha molto spesso consigliato soprattutto per i bracket un po di elo più bassi un campione molto 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 semplice a livello meccanico molto chiaro da utilizzare quindi è un campione che richiede ben poche attenzioni sulle meccaniche microscopiche del campione stesso e ne permette invece di più sulla tensione su resto la partita quindi presenza di mappa comunicazione a tenere un po traccia dei tuoi avversari dei movimenti del loro giangler dei movimenti del tuo avversario in corsia ed è un campione che può essere utilizzato per ripartire un po dal dal principio dalle basi ora come ora vorrei più che altro vedere da parte dei dei colossus esports che ovviamente sono in svantaggio esatto un pochino anche più di attenzione in corsia centrale per facilitare anche quella corsia che per il vegar di prima non è stata affatto semplice nonostante su carta avrebbe dovuto avere almeno un minimo più di controllo forse anche la scelta del run ha giocato un po sfavore in alcuni frangenti sicuramente sì possibile adesso con entrambi questi assassini rimossi la corsia centrale dovrà prendere un po ritmo diverso e ancora d'altra parte non sappiamo se sarà quella n a rappresentare il mid laner dei colossus oppure se sarà un campione più più coriaceo più facile un pochino da da usare per superare una fase di corsia senza concedere troppo orna un altro campione che era stato bannato durante la prima partita subito riproposto dai polibus un fortissimo qui top laner potenzialmente ma ancora mantiene quel potenziale di flex che come abbiamo detto una solidissima front line un solidissimo engage addirittura non committal quindi un engage che non ha bisogno di mettere il tank stesso in pericolo come magari invece può essere quello di uno zack se diciamo che c'è un cambio di direzione lato polibus andando a identificare non più jungle top come i maggiori possessori di risorse per poter snobolare il team avversario ma invece un orna è uno zack per quanto riguarda giungle cose per ore quindi mai dire mai perché avevo visto degli orna prendersi facilmente i primi sangue ci basti pensare famosissimo il nostro pg nationals il lorna uno dei migliori orda con il libro di incantesimi pronto lignite ignite e poi quel primo sangue favoloso con supreme annessa quindi sicuramente cosa diverso perché adesso pone nelle mani di ziggs e tristana il il maggior numero di obblighi a livello anche di danni dall'altro lato anche con qualche picco un pochino più variegato quell'inserimento di jacks che potrebbe regalare qualche decisamente qualche emozione in più saremo a vedere ancora una volta è un jacks in giungla più ancora una volta un campione che vediamo tradizionalmente in corsia superiore relegato un pochino al ruolo di jungler che da un lato soprattutto per un campione come jacks che è un campione che punta principalmente allo scaling alla presa e al costruire un pochino le sue risorse i suoi oggetti le sue statistiche prima di essere veramente influente è buono perché virtualmente ti permette di evitare confronti diretti con gli avversari per l'early game schippare un pochino quell'early game dici preferisco combattere i mostri per adesso preferisco combattere intelligenze artificiali non espormi troppo ai rischi da parte di nemici veri e propri finché almeno quel singolo oggettino quelle varie componenti non le ho dalla mia a quel punto sarò già un pochino più efficace rispetto a una corsia superiore per l'appunto però come menzionato tu diversi cambi di direzione anche soltanto abbiamo visto un alistar adesso accoppiato a questa miss fortune in corsia inferiore che dal momento che nautilus era stato rimosso bannato può andare un pochino a colmare quella mancanza perché è comunque di questi supporti tankosi con degli ottimi controlli con degli ottimi engage un po diversi chiaramente da quelli di nautilus ma che sinergizzano abbastanza bene con miss fortune la wombo combo con una suprema di miss fortune con capdi e alistar è veramente dietro l'angolo le combinazioni ci sono ma anche nella pratica precedente c'erano diverse combinazioni quindi sarà più ancora una volta bravura e premura dei giocatori singoli e soprattutto adesso mi rivolgo anche al team di questo momento come quello di colossus è in uno svantaggio netto a fronte di una best of free perché è match point per i polibas team quindi è facile per loro chiudere qualora dovessero nuovamente precipitare le cose nell'immediato sarà quindi loro premura anche giocare molto meglio di livello macro cercare di rispettare quelle che sono un po anche gli engage che anche questa volta non mancano soprattutto questa volta non mancano dentro al team dei polibas c'è da dire che sicuramente è un inizio differente perché zac necessita un po di tempo la stessa cosa vale anche per horn per avere quei primi oggetti anche molto più difensivi poter ampliare e massimizzare quelli che sono invece le power spike per quanto riguarda zix e in corsa inferiore quindi del tempo che potrebbe dare modo a i colossus esports di potersi avvantaggiare sul breve periodo sì mi ero momentaneamente perché vedo che hai liberato gli warwick ancora sì esatto c'è un branco di warwick no purtroppo ancora warwick non siamo arrivati però diversi appunto campioni che spuntano un pochino da dai meandri più oscuri e stiamo parlando un pochino di queste varie composizioni dei un po anche diversi cambiamenti che abbiamo visto da un game all'altro è uno dei cambiamenti quasi più apparenti che giustamente un pochino accennato si allontano un pochino con la pressione corsia superiore gli stessi polibus non c'è più quel mordecaiser che può creare non c'è più un olaf che può creare anzi adesso sono due tank e in generale la composizione è virtualmente un triplo tank con soltanto due dps veri e propri tristana ziggs che per quanto abbiamo visto tank prendere il controllo da partita e diventare pericolosi e fare anche molti 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 danni è pur sempre un rischio perché se quei tuoi due dps vengono un po bloccati chiusi e resi poco efficaci allora la tua composizione potrebbe far fatica ad abbattere un team avversario dove non vediamo moltissimi tank ma vediamo invece molta più pressione vediamo pressione sulle side lane potenzialmente addirittura doppia con fiore jax nonostante jax sia il jungler quindi non abbia quel teletrasporto disponibile puoi sempre piazzarlo nella corsia laterale a fianco dell'obiettivo che puoi andare a contestare in modo tale che non debba mai essere un lungo percorso da percorrere qualora ci sia bisogno di due ancora una volta tutto comunque si dovrà decidere anche un po in base a quello che potrebbe accadere nelle solo lane stesse per quanto ripetisco ancora un'ultima volta se non altro adesso per i colossus c'è meno pericolo che la partita possa sfuggire fin da subito dalle loro mani perché contro si ok puoi dare qualche uccisione a orna ea uno zac volendo questo li renderà più coriaci e sicuramente sul lungo termine ti renderà anche più difficile poi giostrarti contro una tristana uno zix che tra l'altro un ottimo range un'ottima capacità di macro distruzione delle torri a livello anche di assedio un ordino zac faciliteranno dei dive detto questo però servo a vedere perché adesso dovremmo essere pronti eccoci qua finalmente su ruote terra l'ante degli evocatori per quello che è il secondo match di questa best of three al meglio delle tre il colossus esports cercare il pareggio contro i polibas team al match point e avevamo detto mi sembra hashtag cls contro hashtag pba se non erro quindi li ripropongo anche all'interno di questa partita il primo punto già stato assegnato e i polibas sono a match point quindi ancora una volta una singola vittoria li porta ad avanzare alla fase successiva ora c'è chiaramente una cosa da evidenziare guardando la scoreboard è per noi che abbiamo tutto questi insomma diventare tutt'altro sott'occhio è già saltano un poco all'occhio ma prima di far partire posso posso è palesemente devi sapere che in in papuasia questa è un'itemizzazione molto famosa per fiora perché sfrutta il disorientamento di orn come se fosse un pokemon si confonde si colpisce da solo e grazie anche solo alla passiva stessa di fiora avrei un vantaggio immediato adesso infatti vedrai è vero è vero vediamo vediamo sono molto curioso da questo punto di vista e oltretutto prima di lanciarci in flame e ingiurie io vi vorrei ricordare che nel ormai lontano creva l'anno 2018 al campionato mondiale un povero povero mid laner che pochi conoscono che compete con il nome di rookie nel suo match eliminazione contro i kt match 5 dei suoi quarti di finale purtroppo si presentò in corsia con le blank senza oggetti e comunque vinse non solo il quarto di finale ma poi anche la semifinale e l'intero mondiale quindi beh c'era da dire che era un rookie a tutti effetti insomma un giovincello un ragazzo un po così alle prime arvi di esperto e non c'erano quindi un po la fortuna anche il principianto quello che se li finisce un rookie mistake esatto un rookie mistake scherzi a parte lo rivediamo adesso con il vangelo del trasporto tornare comunque con la lama di doran e una pozione della salute ha perso anche un pochino più di priorità sul farm questo permetterà orne di avere già per l'appunto il livello 2 rispetto al livello 1 non è purtroppo devo avvisare ovviamente chi sta seguendo non è la build della papuasia purtroppo perché tu ovviamente sacrifichi quei 500 gol di iniziali ma a favore a favore comunque del primo ritorno in base ma con un oggetto intero una bella tia ma ok certo e c'è anche da dire su una nota anche un pochino più seria che per fortuna non è stata presa in maniera pesante da parte del giocatore stesso che abbiamo visto si tornare in corsia con il teletrasporto ma anche lanciato una simpatica emote per mostrare che il suo stato mentale ancora è lontano un po dal tilt che potrebbe indurre un inizio del genere intanto però possiamo anche tra l'altro degradare il fatto che sia la top che la bot hanno avuto un piccolo cambio tra di carri per l'appunto quindi il credo precedentemente di fulmine si è stato in corsia inferiore con misfortune mentre invece il gene di prima si è stato proprio in corsia superiore questo potrebbe anche aver creato un attimo di frentendimento magari potrebbe potrebbe staremo a vedere ogni caso perché sicuramente adesso fiora farà molta più fatica anche a livello di di livelli a meno che non ci sia una pressione da parte dello stesso jacks per come ho visto giocare horn o meglio il player di thundercrow difficilmente mollerà quel gap di livelli si è molto vero già dare questo iniziale vantaggio del tempismo bonus diciamo un po in fase di corsia lo vediamo già costruirsi una discreta un discreto vantaggio di cs dalla sua con ormai quelle che sono due wave aspettando che fiora last city minion che hanno raggiunto un po la sua torre ma chiaramente oro è un campione che ne può beneficiare molto perché se farmi più del tuo avversario se ottiene più gol del tuo avversario puoi andare a costruire subito degli oggetti quindi andando a limitare o meglio a crescere ancora di più la discrepanza tra te e lui che ancora deve tornare in base deve acquistare e deve ripresentare rispondere all'aggressione tendenzialmente così funziona secondo me dipende cioè c'è una c'è una linea sottile tra il dover tornare in base il fatto che ti ci mandino in base quindi ho visto molte fiora non abbandonare mai la top lane all'interno della loro partita e semplicemente tirare dritto fino a che la partita non è finita in un verso o nell'altro quindi da quel punto di vista abbiamo sempre molto molto spazio di manovra ecco d'altro canto però invece orno meglio thunder crow non ha problemi di ritorno in base potrà continuare comunque temizzare salvo ovviamente l'uso del totale mana per mantenere questa pressione questo vantaggio che ormai si attesta a 12 minion già questo minutaggio con tanto di exp che si va ad aggiungere non dover tornare quasi mai in corsia o tornare in base per poi ripresentare corsia a meno che per l'appunto non ci sia ben poco mana per fare insomma comunque un buon check up totale e per adesso l'inizio abbastanza standard oserei dire forse jacks un pochino indietro nel suo clear rispetto a zack che ho portato per un ultimo mi trattengo si lancia in avanti con il prima capocciata da parte dello stesso alistar su di lui il polverizzatore per poco la mano lo se non lo trova i diversi flash contatto di via che si vengono a sprecare dall'altra parte soltanto punizione glaciale per zack e league night per leone l'ustione per leona questo però porta comunque due summoner alla di carry l'intervento di un jacks che tu stesso comunque svantaggiato anche dalla stessa farm la propria giungla è un alistar in fin di vita è stato un clear leggermente più efficiente per zack rispetto a jacks in corsia super nel frattempo vediamo ora che ha già raggiunto il livello 6 così come che adesso fiora ma purtroppo non abbastanza mana per cercare ulteriormente aggressioni ormai sta anche soltanto spingendo fiora costantemente sotto torre che va bene non si è buono perché ti mantiene una priorità di corsia costante che virtualmente libera un pochino il tuo jungler su quella tri mappa ma non vediamo molti movimenti da parte di zack su quel lato superiore idealmente se vuoi cercare di contestare un pochino di più la lane stessa e magari minacciare il tuo avversario in corsia di un all in o di un trade o zonarlo dai mini o dall'esperienza preferiresti tenerla wave il più vicina possibile al centro addirittura al tuo lato di mappa in modo tale da beitarlo verso un un esposizione eccessiva e poi a quel punto dare il colpo di grazia con l'aggressione d'altro canto però devi comunque tenere a mente che per per thunder cropper come hanno giocato gli stessi polibuzz team nel match precedente anche così metodico a conti fatti un horn che continua a tenere calcificata alla propria torre una fiola che invece vorrebbe cercare di quanta più priorità possibile script usciare poter aggredire va bene così orne rimarrà sempre resistente fiore avrà sempre meno risorse e tra i due chi ne gioverà sarà semplicemente per inerzia poi orne a prescindere così ancora meglio se diciamo che orne riflette anche molto meglio la luce un po dei suoi compagni di squadra perché avere una forte front line se ai campioni dietro che riescono a fare molto danno per seguire un pochino la mossa di orne stesso è ottimo perché è proprio la composizione che funziona come dovrebbe mentre fiora che lei sia forte o meno o meglio se lei è forte che il resto del tuo team sia forte o meno a lei importa relativamente poco il suo obiettivo è stare nella corsia laterale cercare quei duelli cercare di isolare gli avversari e guadagnare un po di spazio per la sua squadra anzi virtualmente è uno degli stili che funziona un po meglio con una composizione più debole perché stai comunque cercando di creare un vantaggio numerico per loro in modo tale che quelle mancanze vengano un po colmate quel recupero venga effettuato e intanto qui vediamo jacks che si avvente immediatamente su l'occhio del messaggero ma il messaggero stesso per ottenerne poi il favore questa è una buona scelta considerando che zacca come tu stesso avevi detto ha passato molto tempo in corsia inferiore ci sono state anche delle aggressioni jacks sa bene che orne stesso non vuole neanche dare troppa priorità o qui un flash però molto molto creativo da parte di leona per poco non riesce a ottenere anche l'aggancio grama dello zainte solo adesso fiore addirittura si smarca a metà della corsia per andare a ottenere il messaggero jacks però troppa poca vita non può rischiare ovviamente di subire un knock up con testate o evocazione della forge da parte di un orne in fase soprattutto di channeling seppur ormai molto breve si ritirerà magari riuscirà a carburare un pochino più di vita magari si ripresenteranno proprio in questa corsia dipenderà molto da quelli che sono le intenzioni del piano di gioco dei colossus isports già ancora una volta il primo messaggero è loro quindi la priorità su un obiettivo del genere o perlomeno a ruotare quando vedi il team avversario invece volgersi verso l'altro obiettivo vero il drago sull'altro lato la mappa da questo punto di vista c'è bisogna vedere se riescono a sfruttarle in maniera adeguata questa volta è arrivato un po prima del game precedente quindi dovrebbero comunque riuscire a utilizzarlo prima che le placature vengano rimosse il che potrebbe voler dire appunto quel paio di centinaia di gold per un giocatore o l'altro si vediamo comunque intanto per quanto riguarda lo scoreboard piano piano piccole componenti e oggetti che si vanno ad unificare lentamente bramble per orn che renderà sicuramente più difficile la vita la stessa fiora così come un mc spada a fronte di un piccone invece per misfortune il vantaggio che vediamo di 1200 unità attuali sono prevalentemente quel sì quel farm aggiuntivo che sono riusciti a raccogliere già infatti la discrepanza in farm la vediamo in giungla in mid molto anche un po in bot lane mentre la corsia superiore è stata comunque recuperata un po da fiora che addirittura adesso lo vediamo leggermente superare orna per quanto riguarda i gs però qui l'ingresso su enni dona il primo sangue a ziggs niente po po di meno un ingresso da parte di zack con catapulta suprema e poi addirittura la punizione glaciale ne hanno permesso a ziggs indissorbato senza alcuna summoner senza alcuna suprema di poter chiudere facilmente l'uccisione una comoda entrata una comoda kill raccolta ed è un primo sangue che va sul carry quindi abbiamo parlato un po di quella minaccia si triple tank soltanto due dps ma le risorse per adesso vengono allocate molto bene e questo è un ottimo primo passo in avanti per ancora una volta prendere un po controllo della partita e addirittura grazie alla presenza chiaramente di ziggs e della sua w della sua carica satchel eliminare quelle torri sotto il 25 per cento di hp è una facile facile impresa per il team dei polibus che ancora una volta si presentano aggressivi c'è da dire che comunque per i polibus già dicevi thunder crow passeggiata su che succede dov'è fiora ma citazione a parte un treno un treno che aveva il volto di un caprone che sa che però il treno l'ha preso di faccia fiora mi sa proprio che cosa si prende il treno al volo l'ha fatto ma non nella mia musica comunque stavo dicendo che per i polibus per ipoli base è importante anche mantenere questa pressione di macro perché carica satchel ok questo è un ottimo modo per non capare le torri stesse distruggerle ma è anche una tristana con la sua carica esplosiva ledere quelle prime per cui prima capì per permettere poi alla carica satchel di intervenire è fondamentale sarà sicuramente una priorità per il team dei polibus sì è vero quella è una è un'ottima opportunità ed è un po un peccato che da questo punto di vista non siano stati proprio loro a raccogliere quel primo messaggero perché avrebbe facilitato ancora di più il loro messaggero che sta anche per scadere questa cosa importante perché ancora una volta jax sta temporeggiando anche nella seconda nella pratica precedente è arrivato oltre il quattordicesimo minuto quel messaggero a questo giro però non sarà così magnanimo col tempo è già deve un po decidere dove utilizzarlo perché si sta rivolgendo verso la corsia inferiore forse la cosa migliore potrebbe cogliere la bot lane in rotazione in recall se si ormai i secondi stanno lentamente ticchettando verso la fine e approfitta anche appunto le recall di tristane adesso vedremo anche leone a forse allontanarsi per guarda però che gli sono in preparati rotazioni gli avversari ziggs e lo stesso zack pronto quasi con la catapulta ziggs già pronto anche a pulire ferocemente l'ingresso catapulta cerca il controllo su quest'ultimo addirittura supremo utilizzata un po per disperdere le attenzioni per pulire velocemente le ondate mentre qui un ottimo comunque di rotazione da parte del dei polibas con per appunto tristana che va in corso centrale ziggs in corso inferiore e non è neanche così particolare anzi generalmente lo vediamo proprio come possibilità di flex si esatto quel flex di cui parlavamo in draft e che adesso si manifesta a metà della meglio già verso la conclusione di una laning phase tristana certo non avrà niente di concreto da aggredire qua subito si tratta soltanto di pulire un pochino quelle ondate dal momento che quella torre è già caduta però mantenere tristana su questo lato di mappa ti mantiene alta la priorità su un eventuale drago che adesso sta responando e spostare ziggs in botti invece permette di approfittare di questi ultimi secondi per minacciare quelle placature e cercare di ottenere il più possibile anche se con la presenza sempre forte la botlane dei colossus con soltanto adesso a ribere cold patrimi sfortunali sarà difficilmente ci sarà quella riuscita leone ancora una volta cerca una lama dello zenith al millimetro purtroppo non riesce c'è da dire che comunque per come si sta mettendo comunque la corsia superiore io sono a voto totale favore per fiora ma sono 100 perché da top laner quando vedi di tank contro e quando vedi che più gli attacchi più ci muori è molto molto difficile vivere quella corsia è proprio tediosa ti prosciuga l'essenza vitale infatti vediamo un rush di ma noi oscura sembra essere la fiora però ziggs potrebbe essere nei guai ziggs seppur con barriere flash ma sta arrivando anche la propria corsia bellissimo l'uso della carica per uscire fuori suprema la parte di fuori della sua misforgione questo ormai isola jacques poi l'evoluzione da forge il doppio k il triplo teletrasporto ormai zax entra con il supremo però ancora utilizzabile adesso viene utilizzata per molti vicino capo un tribolo capo di alixar questa potrebbe essere la prima visione ma noi diversi flash vita salva nonostante tutte le suprime tutte le usate tutte le proprie summoner cosa è successo l'unico a mantenerle è jacques con questa funzione glaciale e flash ormai tornato in base pazzesco wow alla fine è soltanto è assurdo pensare che sia uscito a soltanto un uccisione da tutto quel marasmo perché come detto le summoner spell se ne sono andate a destra e manca ne abbiamo adesso due quattro sei il lato colossus due quattro sei sette invece è privato quindi complessivamente tredici summoner spell bruciate in questa singolazione con una sola kill molto creativo ziggs sul tentativo di fuga lì con la sua carica satchel aspetta l'unico il secondo possibile poi salta e flash nel cespuglio in modo tale che il jacques non potesse nemmeno reagire saltandoli addosso con quel suo stordimento e poi l'arriva invece tempestivo di zack di orn con un fantastico anche ridirezionamento della profe suprema permette di coprire totalmente la fuga e anzi riaccendere l'aggressione un'azione molto concitata che alla fine da una singola kill a ziggs che adesso 2 e 0 completa il suo primo oggetto a quell'eco di luden a quella solida taglia sulla sua testa diventa sempre più pericolosa non una situazione semplice adesso perché vediamo già primi oggetti mentre dall'altra parte componenti dell'ikea soprattutto se pensiamo anche a campioni come fiora e jax ormai fiora direzionata magari verso quello che era per la puntuna mannaio scura ma per i jacques la virtù della triade è essenziale e beh a di più di 30 milioni di differenza con uno zacks o qui però di x a questo giro per lui difficile rispondere la suprema per poco dopo la magia zix nonostante tutto nonostante il trio dei colossus grazie alla suprema gli ottimi movimenti cogli in castagna miss fortune si prende un'uccisione un uno per uno che non doveva di certo essere così wow persino in in tre contro uno si alla fine riescono a uccidere non ha più quel flash non ha più una concreta via di fuga ma preciso come non mai con le sue bombe è un'altra uccisione che va nelle sue tasche senza poi nemmeno considerare tutta la pressione di mappa che stava anche un po' guadagnando per il resto della sua squadra che adesso può tranquillamente spostarsi da mettere pressione in corsia centrale a minacciare questo drago che è soltanto il secondo siamo a 17 minuti quindi un ritmo un pochino più lento rispetto alla partita precedente ma un concreto assicurarsi l'obiettivo e ancora una volta una landa che si rivela essere quella infernale quindi altri danni in arrivo e purtroppo per come a livello di macro si sta piano piano asserendo la posizione la situazione stessa dei colossus in base a quella dei polibas non è neanche così semplice ora è per i polibas potrebbe esserci anche una ripresa infatti qui vediamo leone addirittura che interrompe il proprio richiamo in base utilizzo del bocciolo della visione jax pesantemente inficiato così come anche fiore negli hp evocazione della forgia triplo lo cap come i birilli e la suprema di zix e pura poesia fuochi d'artificio per il polibas team era super un po di zax a concludere schiacciando al suolo la povera annie ormai lasciato da solo l'arrivo ancora in catapulta come una catapulta zax doppia uccisione e poi zix con le bombe wow sono quattro kill pulitissime raccolti qua dai polibas è un'aggressione senza freni che adesso permetterà loro di tranquillamente assicurarsi questo messaggero questo secondo messaggero un fantastico engage con una bellissima suprema di orn concatenata con quella di zix che garantisce quasi immediatamente l'uccisione sulla miss fortune avversaria e non c'è nemmeno bisogno di mettere tutta quella pressione nello stesso punto della mappa perché quello è un obiettivo neutrale che se ne va è una torre che cade ancora prima senza contare poi il fatto che zax letteralmente come una catapulta si prende prima un'uccisione schiacciando annie di suprema e poi ancora una volta su una seconda decisione di che no l'occhio si guarda intorno cosa succede esattamente in questo momento l'occhio e john travolta e l'occhio però se ne valla certo bm diciamo che bm diciamo che bm diciamo che bm diciamo che bm non hanno nemmeno bisogno non ne hanno bisogno sono già in vantaggio questa forse è il modo migliore per affondare ancora di più i propri artigli su esatto sui nervi tesi dei colossus della serie che abbiamo contestato ti abbiamo ucciso praticamente tutti quanti per una carneficina quasi e come se non bastasse l'occhio lo sputiamo per terra non ci interessa non ci piace non c'è bisogno non c'è bisogno ed effettivamente è vero per quanto sia una cosa assolutamente insensata e tutto il resto se c'è l'occhio prendila però non ce n'è bisogno come vediamo stanno continuando a mantenere una presa molto salda sulla partita sulla pressione su ogni fight e anche su ogni corsia sostanzialmente adesso addirittura ziggs è da solo in bot lane che sta pushando e quella se non viene risposta in fretta sarà un'altra torre che cade con una facilità immensa perché con adesso anche quel terrore dei lich nel suo inventario le torri davanti a lui si sciolgono si liquefano non c'è possibile ripresa se non andare pulire le ondate e metterlo un po nei guai forzando uno svantaggio numerico che però significa perderlo da un altro lato della mappa infatti spostamento adesso da parte del team dei poliva sulla corsia superiore dove che ora c'è la forgia si ora cerca di fuggire carica esposizione su di lei salto con razzo ovviamente questa non viene massimizzata quindi per tristana non c'è più possibilità di fare a un follow up mentre zax trova annie e gli ha già fatto più di metà vita una marea di danni e da parte di zack catapulta a corravolta anche solo per guadagnare pressione aggiuntiva fiore ha un ottimo rispetto da parte sua sa bene che deve retrocedere non può rischiare con l'arrivo di horn non era cosa no è molto rischiose come esatto come vediamo comunque doppia sedi lei tristana di x da una parte all'altra sono deboli trici esatto non non c'è molto da fare non c'è molto da dire in questo caso la pressione che eserci da un lato se vuoi rispondere con la parità numerica non sei in uno stato di gioco che ti permette di poter fronteggiare un avversario in parità numerica quindi devi per forza di cose superare e che vuol dire da un lato opposto mancare rimanere a vuoto a secco e zix se ne approfitta benissimo con quegli oggetti ormai la pressione sugli obiettivi è infinita le torri e sono un obiettivo molto facile da distruggere mentre dal lato opposto vediamo l'intera composizione un po dei colossus che fa ancora fatica a concludere anche un singolo oggetto a tratti con jax che sta ancora cercando le componenti della sua trinity non vuole nemmeno perdere un po tempo per completare un incantamento della giungla vuole la paura spike della virtù della triade per jax è enorme è un è oggetto più importante per quel campione ma le gemme dell'oggetto la giungla sono gli oggetti che danno le statistiche maniera più cost efficient sembra dell'intero gioco wow due bombe più suprema e jax è costretto a tornarsi da casa a meno che non vogliono insistere infatti zix lì si poteva aspettare un ingresso terzo drago che cadrà facilmente nelle mani dei polibus team per quanto sicuramente adesso il game sia un pochino più avanzato rispetto a quello precedente per l'anima il drago non è certo un una differenza così eclatante se vediamo anche rispetto alla prima partita ad apulta pronta proprio su misfortune guarda i danni anche di punizione glaciale stordimento comunque ottimo l'azione della forgia qui bellissimo però il knock up di alistar per evitare il rain gauge si attardano però sullo zax ancora con warmong e stessa passiva disponibile ma ancora sopravvive doppia uccisione dopo quella su fiora da parte anche dello yondaive okage tristana chiude facilmente con la chiusura della carica esplosiva e implode il team avversario adesso tutti insieme potrebbero anche cercare non soltanto l'indicatore chissà magari la partita che per i poliboss avversari sicuramente garantito vogliono essere sicuri ancora una volta vogliono essere cauti come nel game precedente ci hanno dimostrato non c'è motivo di affrettarsi quando lato preso sulla partita così sta dall'altra parte il bar non ancora disponibile l'anima del drago infernale volendo potrebbe essere ancora disponibile a diversi minuti ma il game potrebbe arrivare in uno stato di chiusura ancora prima di allora non facile è brutto dirlo ma questa partita è lentamente ancora una volta scivolata dalle mani dei colossus e velocemente riagguantata dai polibas team ci sarà anche un modo di vedere se i polibas vorranno chiudere con la loro stessa metodicità magari con un baron o cercare tra tre minuti all'anima del drago infernale un ultimo team fight per poi dirigersi tutti quanti verso quello che è la parte centrale con intanto però thunder crow che continua a spingere in corsia inferiore beh adesso però vediamo qui nuovamente thunder crow molto aggressivo su questa torre e a ragion veduta ha già un oggetto intero più che a zero dei tabi e per quanto solo megatron tra quello che è la sua tra quello che è insomma il suo inventario di difesa magica contro enni dall'altro lato enni ha un ludeneco e un piccolo componente insieme alla dora ring tutto come però i polibas vanno presso il barone è un obiettivo è il prossimo obiettivo sulla lista diciamo avanzando passo per passo questa era la progressione naturale vediamo che anche semplicemente rispondere a un orne in solitaria nella curiosità laterale diventa così complicato così difficile da fare che questo sarà un facile obiettivo assicurato e adesso sarà ancora più difficile cercare di scollarsi orna da quelle strutture guarda orna quanto sta guadagnando tempo sopravvive vocazione della forgia si rincomincia triple lock up più il brito la thunder crow uccisione di enni ma è un incubo alla fine prende anche una doppia uccisione su jacks per poi finalmente crollare contro quattro membri ma questo da tutto il tempo del mondo ai polibas di distruggere e fare terra bruciata adesso mi sforzo la suprema ma stent uccide minion figurarsi zax a un 2 contro un 2 per 1 in kill in una situazione quindi uno contro quattro è sempre un feels good man è sempre un feels good man pazzissimo comunque thunder crow ci sta regalando emozioni con prima con mordekaiser adesso con queste due uccisioni due contro quattro praticamente e ancora una volta avanzamento matematico chirurgico anzi da parte dei polibas tutti e tre gli emitori distrutti anche con quel barone adesso quale sarà la prossima mossa vuoi aspettare il ritorno del totoplaner e tornare tutti in pompa magna caricando la base avversaria vuoi addirittura aspettare quel minuto e un quarto che ti separa dall'anima del drago in finale per assicurarti di avere il massimo possibile vantaggio per spezzare definitivamente la schiena ai tuoi avversari spettacolare spettacolare davvero davvero spettacolare il fatto che comunque non vogliano forzare troppo la mano ripeto è un buon indice poi per quelle che saranno anche le fasi successive dove si dovranno trovare contro altrettanti team se poi addirittura andiamo anche più in là quando si dovranno scontrare con altre parti europee di università beh allora lì il livello sicuramente avanzerà potenzialmente sì ma ne abbiamo detto un po' di di cotte e di crude rispetto ai colossus che purtroppo in queste due partite hanno subito molto ma devo fare qua invece una critica agli stessi polibos e se guardi gli inventari potresti intuire qual è nel frattempo si c'è dell'azione ma sappiamo già ormai e qui ancora una volta l'ultimo colpo del briton potrebbe esserci ok zix è tutta roba tua doppio uccisione tripla per lo stesso zix potrebbe arrivare anche una quadruplo ma che servirebbe ormai la carne vicina potrebbe arrivare da un momento all'altro ma prima cadere sarà il nexus questo pone e poi lì ma steve sul 2 a 0 e quindi a questo punto non vuoi lasciate dire un po quello che ti stava facendo strizzare sì ecco perché ok complimenti vittoria 2 a 0 mega convincente va tutto benissimo ma tu chiaramente mi conosci ormai da un po e sai che quando si parla di itemizzazione sai che quando si parla di orna io ai miei occhi puntati su alcune cose e in questo specifico caso era quel copricapo di rabadon che era nell'inventario di zix a fianco dell'impulso di luden e sono qua per fare un public service announcement quindi una dichiarazione per anche tutti voi che ci state guardando di casa se state giocando un mago e avete un orn in squadra e volete farvi potenziare un oggetto il rabadon ha una gold efficiency nettamente più forte perché quei gold di potenziamento nel lecco di luden vanno a disperdersi anche verso il mana non vi serve mana in più quando si arriva ai team fight quando si arriva agli scontri a fare danno l'unica statistica di cui avete avete veramente bisogno è ap 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 danni con il copricapo di rabadon quel gold value è aumentato a dismisura e tutto quello che dovete fare per assicurarvi che orn potenzi il copricapo di rabadon e non l'eco di luden è mettere il copricapo di rabadon nello slot più alto possibile perché vengono potenziati in ordine numerico prima l'uno poi il 2 cerca l'uno poi cerca il 2 cerca il 3 il primo oggetto che trova che può essere potenziato lo potenzia quindi se mettete il rabadon nello slot numero 1 vi assicurate che quella diventerà una corona funebre quelle diventeranno montagne di ap e che voi potete quindi devastare ogni singolo team fight c'è da dire che comunque abbiamo visto anche ben più di queste cotte crude abbiamo visto a livelli soprattutto alti competitivi americani e non prediligere addirittura questo potenziamento dell'eco di luden non facciamo finta che l'abbiano voluto prediligere e ancora di più non crearsi o non itemizzare oggetti potenziabili quando hai un'orda insieme quella penso che sia la creme della crema credo che sia proprio il flexare sullo sbagliare l'oggetto potenziare quello è il flex quello è proprio il flex ignorante del dire ah sì io non prendo neanche un oggetto che orn mi possa potenziare beh l'altra parte questa partita non è nemmeno raccolto l'occhio del messaggero quindi se c'è da fare critiche le critiche si possono tranquillamente muovere è difficile fare critiche esatto con un risultato del genere con un orn che batte in splitpush fiore e splitpush a sua volta is this multiverse non lo so ben poco da dire una prova di forza una convincente vittoria e quindi abbiamo i polyboss che avanzano quindi alla fase degli ottavi di finale che verrà trasmessa in futuro e sono i primi vincitori della serie di oggi ma ce ne sarà un'altra che arriverà dopo la prossima pausa esatto e quindi come sempre una piccolissima pausa e ci vedremo sempre qui su PG Sports a tra poco a tra poco Grazie.